e poi cominciamo pronto? possiamo andare, vai ok, mi attendo all'altra bretella e la vela si ferma eccola lì, e come sempre viri dall'altro lato, ok, lo rifacciamo senza riaprire, allora facciamolo con la sinistra di nuovo, dai ok mandala dritta devi andare dritta, non virare a destra devi andare dritta ok, vai, riapri e vira verso di noi sbrigati riapertura 180 a sinistra, vai oh, sbrigati se ti fai il bagno ok ne facciamo una veloce fronte camera sempre trattenuta, ma sbrigandoci dai bene, tienila ok, rilascia e riapri e vieni subito dentro dai, stieni sotto di inizio e vieni dritto veloce dentro buono grazie a tutti